La terza dose di vaccino anti-covid sta trainando la campagna vaccinale. Sono oltre 2 milioni, quelle finora somministrate, il 35-40% dei vaccinabili e si viaggia a ritmo di 100.000 iniezioni al giorno. La campagna vaccinale in Italia sta andando molto bene, i dati sono incoraggianti, spiega il ministro della Salute Speranza. Siamo all'83,3% di persone vaccinabili che hanno completato il ciclo primario, quindi sono numeri molto importanti. Stiamo accelerando anche sulle terze dosi e pensiamo che questo sia il primo essenziale terreno su cui concentrare tutte le nostre energie nelle prossime settimane. Grazie alle misure ai vaccini abbiamo evitato la grande ondata, afferma il direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza. L'ultimo bollettino infatti ci consegna 5.822 nuovi positivi e 26 vittime, con un tasso all'1,3% e un lieve aumento di ricoveri e terapie intensive, numeri che invitano alla prudenza ma lontani da quelli di altri paesi europei e soprattutto da quelli di un anno fa. Niente allarmismi dunque, precisa il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del CTS Franco Locatelli, che annuncia un Natale più sociale di quello del 2020, esclude un lockdown dei non vaccinati e sottolinea l'importanza di estendere la vaccinazione ai bambini tra i 5 e i 11 anni.